Bentornati sul canale della Happy Family Makers. Oggi vi mostro come ho risolto un problema che mi si è presentato sulla mia elettrofresatrice, una CMT7E, di cui vi lascio nelle schede qui su in alto un link al video dell'installazione della piastra, nel caso in cui anche voi la voleste montare sotto il banco così come ho fatto io. Problema risolto attraverso un intervento di manutenzione straordinaria che non mi era mai capitato di eseguire. E proprio per questo credo possa essere utile condividerlo con molti di voi, non solo nel caso di CMT ma anche nel caso di altre elettrofresatrici di questo tipo, quindi da banco. Vado quindi ad illustrarvi quello che mi è capitato e ne approfitto anche per mostrarvi le peculiarità che a mio parere rendono questa macchina una delle migliori, sia in termini di qualità assoluta ma anche e soprattutto in termini di rapporto qualità-prezzo. Qualora foste interessati all'acquisto vi lascio in descrizione il link per poterlo effettuare. Innanzitutto diciamo che per poter sostituire una fresa devo portare il mandrino di serraggio in una configurazione tale da farlo fuoriuscire completamente dal banco. In questo modo viene azionato il pistoncino che blocca l'albero motore e posso procedere a svitare il relativo dado di serraggio e quindi sostituire mandrino e o frese. Ho detto mandrino e o frese non a caso, proprio perché per questo modello di elettro utensile c'è la possibilità di montare sia frese con codolo 8 che frese con codolo da 12. Un bel giorno cos'è successo? Ho successo che la risalita del dado si bloccava quindi non riuscivo più a far fuoriuscire completamente il dado e di conseguenza non riuscivo più a svitarlo. Quindi decido di smontare completamente l'elettro utensile. Quindi tolgo la spina, svito sui quattro lati i dadi a galletto che fissano la piastra al banco, smonto la piastra e decido anche di smontare il cappuccio che serve a contenere la molla di ritorno del meccanismo di alzata che consente la risalita della fresa nell'operazione in cui la stessa viene utilizzata manualmente, quindi diciamo dall'alto. Nel caso in cui invece si voglia utilizzare sotto il banco, come in questo caso, la molla deve essere estratta per consentire la regolazione attraverso l'apposita manovella. Come vedete all'interno del cappuccio c'è della segatura accumulata che con il tempo ha sedimentato compattandosi ed impedendo di fatto la massima escursione del corpo macchina. Misuriamo in modo empirico quale è lo spessore di segatura accumulata. Rimuoviamo ora tale accumulo aiutandoci anche con un piccolo scalpello o comunque con un elemento appuntito, in modo tale da rimuovere le porzioni maggiormente compattate. Ora tracciamo nuovamente un segno sulla nostra sticella improvvisata di misura e confrontiamolo con quello fatto in precedenza. Ci accorgiamo di aver rimosso circa un centimetro abbondante di segatura che impediva il raggiungimento dell'escursione massima della macchina, dell'azionamento del pistoncino di blocco, del motore, eccetera eccetera. Approfittiamone quindi per smontare i vari carter di protezione e per effettuare una pulizia generale con aspiratore e compressore. Rimontiamo il tutto e prima di rimettere in posizione l'elettrofresatrice e la relativa piastra, verifichiamo che la corsa del corpo macchina sia tale da azionare il pistoncino che manda in blocco l'albero motore per la sostituzione di fresa e mandrino. Ne approfitto ora per mostrarvi un dettaglio del tasto di accensione. Infatti alcuni di voi mi hanno chiesto informazioni relative allo sportello che impedisce l'azionamento accidentale di questo tasto a macchina spinta. Quindi diciamo che per accendere la macchina occorre far scorrere lo sportellino e liberare di fatto il tasto di accensione che quindi può essere messo in posizione ON. Tale posizione, sempre per ragioni di sicurezza, impedisce allo sportellino di chiudersi. Quindi quando il tasto è in posizione ON lo sportellino rimane aperto rendendo sempre disponibile l'interruttore che può essere rapidamente commutato su OFF consentendo quindi il rapido spoglimento della macchina e di conseguenza la chiusura dello sportellino. È un accorgimento questo tanto semplice quanto utile per impedire accensioni accidentali molto rischiose. Ora rimonto il tutto e come è molto chiaro dalle immagini la risalita del corpo mandrino è tale da consentire un'agevole sostituzione del mandrino e delle frese. Inoltre è possibile sottolineare come la differenza di diametro tra codolo 8 e codolo 12 si riflette in modo direttamente proporzionale sulle frese che è possibile montare. Un codolo 12 rispetto ad un codolo 8 dà molte più possibilità sia in termini di diametro delle frese che è possibile ad operare e sia chiaramente in termini di lunghezza del relativo tagliente. Sperando che questo breve video possa esservi d'aiuto per quelle piccole operazioni di manutenzione quotidiana che contribuiscono ad aumentare la vita utile e l'efficienza dei nostri elettro utensili vi invito a mettere un bel like, ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto e non mi resta altro che darvi appuntamento al prossimo video sempre qui sul canale della Happy Family Makers. Ciao!